Per me essere un membro delle guardie svizzere rappresenta innanzitutto un onore e poi soprattutto il fatto di poter servire il Santo Padre come guardia è una cosa bellissima, soprattutto anche come cristiano, veramente bello. La mia scelta è nata quando io ho assistito a un giuramento di un mio amico che avevo 15 anni e da lì appunto è nata questa idea. Dunque io è da novembre 2011 che sono in Vaticano. Eventi speciali sono veramente sempre tanti, a partire per esempio il giuramento ma diciamo proprio il più speciale che ho potuto vivere è proprio il cambio del Santo Padre. Questo è veramente stato un momento storico e unico che veramente mi ha colpito nel cuore. Noi svolgiamo innanzitutto il servizio di sicurezza, poi abbiamo un servizio d'onore e dopo appunto abbiamo i nostri posti di lavoro nel palazzo dove vive il Santo Padre e dopo il servizio dipende. Per esempio abbiamo il servizio ordinario che si svolge tutti i giorni normalmente e poi abbiamo i vari servizi speciali come le messe o le udienze che vengono aggiunte al nostro servizio ordinario. Grazie.